Vincenzo Liva di questa gara la conosci molto bene, la onori ogni anno con la tua presenza, anche quest'anno sarai qui per dare il massimo? Sì, cercherò sicuramente di fare con i miei compagni una grande gara, la onoreremo al massimo. Oggi per me sarà l'ultimo giorno in maglia Liquid, quindi come sempre cercheremo di portare sempre in alto i colori della Liquid. Diego, sicuramente un'altra stagione positiva per te oggi, il Giro dell'Emilia, una gara bellissima, tu la conosci, una gara dove puoi fare bene. Sì, infatti, sono molto soddisfatto di questa stagione, tutto, insomma dai, adesso andiamo a fare le ultime corse, sicuramente la gamba c'è e il percorso è impegnativo, si spera di dare il meglio di se stessi e vediamo di fare un bel risultato. Sicuramente è una corsa molto bella, è una corsa che sento particolarmente, speriamo così a fine anno di trovare le energie per essere protagonista nel circuito finale. Sicuramente è un'altra stagione, speriamo così a fine anno di trovare le energie per essere un'altra stagione. Sicuramente è 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 un'altra stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.